Il Trapani è in finale per ottenere il ritorno in Serie B, la squadra di vincenza italiano con una prova di grande intensità ha pareggiato anche ieri sera al provinciale con il Catania dopo il 2-2 e maturato all'andata. In vantaggio con Tagardò, i Granata sono stati raggiunti nella ripresa dalla rete dell'ex, quella di Davis Curiale, per poi mantenere il risultato e assistere alla crescita del nervosismo degli Etnei rimase addirittura in otto. In finale adesso il Trapani, penalizzato da un sorteggio davvero poco clemente, affronterà la corazzata Piacenza, la squadra che soltanto all'ultima giornata aveva mancato la promozione in B, proprio a pannaggio del Lentella, la squadra allenata da Roberto Boscaia. Andata in trasferta sabato 9 giugno alle 18.30, match decisivo sabato 15 alla provinciale. In caso di parità di reti, i gol in trasferta non varranno doppi e si andrà sempre ai supplementari prima e ai rigori poi. E passiamo al calcio a 5 femminile. Come in semifinale il Castellammare pareggia 3-3 nella gara d'andate. Domenica prossima, superando il Futsal Vision Ray Catanzaro, avrà la possibilità di approdare nel campionato nazionale di Serie 2. Il quintetto del golfo, ieri in Calabria, è stato alquanto sfortunato. A causa di due clamorosi autorretti, infatti, non è riuscito a capitalizzare il 2-0 maturato ai 35 minuti, grazie alle marcature di Chiara Amato e Anna D'Amico. Catanzaro riesce quindi ad effettuare il sorpasso, ma il Castellammare, con tanto cuore e dinamismo, acciuffa il 3-3 finale con un tiro ad incrociare della balestra tese piccolo. Domenica prossima, al Palagrimaudo di Alcamo, 16.30, la finale di ritorno, quella che decreterà il salto in A2. Alice Galante e compagni partiranno dal 3-3 ottenuta in trasferta, proprio come nella semifinale, quando fecero fuori l'Altamura. E chiudiamo con l'automobilismo. Nonostante l'arrivo di numerosi piloti da altre regioni e il ritorno di Peppe Gulotta, il busetano Giuseppe Castiglione vince ancora e si aggiudica il diciassettesimo slalom del Lago Redicino, prova valevole per il campionato italiano. Alle sue spalle Salvatore Venanzio e proprio il suo compaesano Giuseppe Gulotta, entrambi su Radical SR4 Suzuki. Il vincitore, su Gloria C8 P1006 Suzuki, campione italiano in carica, aveva quindi interrotto il suo anno sabbatico per essere pista nella gara di casa e dimostrare di non avere perso smalto e voglia di fare bene. Per il messinese Emanuele Schillaci, vincitore della scorsa edizione, quarto posto sempre su Radical, mentre quinto si classifica l'attuale leader del campionato italiano, il monisano Fabio Emanuele Suosella. Nella top ten anche il mazzarese Girolamo in Gardia, il pacecoto Michele Poma e il custonacese Vincenzo Pellegrino.